tente giocatrice di beach volley questa si che ce la sta andando si raccontaci la tua priorità da beacher ho detto raccontaci raccontaci invece la tua carriera al tuo culo lo faccio ciao ma che c'è o no Ah, trascendante! una alberta via 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 salmoni non sta cazzo ma se merda eh 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 Anna Anna guarda però hai la fredda vai spacca vai spacca dai ancora spacca ma che pallonetto ma quella dentro va questa volta la retta c'era vai 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 no 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 vai no 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 quando ponte vai io vai 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 eh vieni lì vieni no no se io vieni Grazie a tutti.